Io mi sono veramente rotto le scatole. Ogni giorno ricevo centinaia di email di phishing come queste che mi stanno letteralmente facendo impazzire. Io ragazzi continuo costantemente a segnalarle ma continua ad arrivarmi questa roba qui, seleziona il tempo di consegna della spedizione, il tuo abbonamento, meccafe, il virus trovato, dettagli del loro... Questa roba qui ragazzi è uno scam. Solitamente analizzo la struttura di questi scam e di queste email per cercare di capire come funzionano queste truffe e per informare la mia famiglia e i miei amici di questi problemi che troviamo su internet. Oggi vi insegnerò come riconoscere una mail di scam e cercheremo di fare una buona azione che aiuterà qualcuno che potrebbe essere fregato da questi tizi qua a salvare i dati della propria carta di credito. Perché io non ne posso più. Attenzione abbonamento Netflix. Gentile cliente il tuo abbonamento è scaduto. Tuttavia come parte del nostro programma fedeltà puoi estenderlo gratis per 90 giorni. Estendiamo l'abbonamento gratis. Ragazzi mi raccomando non imitate mai queste azioni. Sono fatte da un professionista a scopo dimostrativo ed educativo. Se vi imbattete i link sospetti non cliccateli mai. Ma se ne avete l'opportunità segnalateli sempre a chi di competenza. Pinesra di navigazione in incognito guardate che schifo l'URL di queste email. Io ovviamente vi censurerò tutto. Non voglio che voi faccia... Klingit... Deutsch Bank. Sì va bene in tedesco perché giustamente farai il controllo in base alla posizione. Io ora sono in Germania. Congratulazioni dal tedesco. Ogni mercoledì selezioniamo 20 utenti casuali per un breve sondaggio online. Ma sì certo. Vediamo fino a dove riesce a spingersi questa roba. Così analizziamo come funziona questa truffa. Come fare a proteggersi. E come salvare queste povere vittime utilizzando le nostre uniche skill. Ovvero la programmazione. Che dispositivo usi per fare acquisti? Boh l'iPad. Quanti anni ho? Tra un po' ne ho 30. Vuoi ricevere notifiche? Sì un sacco. Sono soddisfatto. Sì. Pagheremo con la carta di debito. Congratulazioni. Invia delle risposte. Verifica della presenza degli indirizzi più duplicati. Ragazzi non credete in questa roba qui. Ecco adesso ci regala uno di questi oggetti. Giusto? iPhone 15 Pro prezzo di oggi 0 euro. Paghi solo la spedizione. Reclamo. Vediamo dove ci porta sta roba. iPhone 15 Pro. La vostra offerta 2 euro. Cioè ma con tutte le cose lagganti che vanno a scatti. iPhone forgiato in titanio. Se questa è la velocità dell'iPhone 15. Non so se sono veramente convinto di reclamare il mio iPhone gratis. Allora riempiamo con un po' di informazioni casuali. Via basta scammare uno. È talmente fatto male ragazzi che non fanno neanche la verifica tra il cap e la città. Cioè questo ragazzi è palesemente uno scampo in Grecia. Numero di telefono mettiamolo a caso. Giustamente. Però per quale motivo dovresti darmi dei problemi? Mettiamo a sto punto anche un email a caso. Qui però hanno fatto il controllo sulla chiocciola. Mettiamo la chiocciola allora. Oltretutto c'è il tooltip che dice aggiungi il simbolo chiocciola. Il controllo peggiore della storia. Blah blah blah. Non devi neanche mettere punto it. Il loro controllo è semplicemente che tu abbia delle lettere e la chiocciola e delle altre lettere ragazzi. Va bene continuiamo lo scampo e andiamo a dove ci porta. Fa una verifica. Pagamento sicuro. Fenella Lara. Ho ricevuto il mio prodotto ieri. Servizio clienti rapido ed eccezionale. Prezzo del servizio è 2,40€. Supporto tecnico gratuito. Qui vuole il numero della carta, la scadenza e il titolare. Diamo un'occhiata all'ispezione del codice. E vediamo che succede se io do un'occhiata al pulsante paga. Questo ragazzi è il tool che vi danno a disposizione i browser. Se io clicco paga. Vediamo se manda una richiesta di qualche tipo. No, non la manda perché vuole il codice di verifica. Di solito gli scammer per fare in modo che voi mettiate una carta di credito valida utilizzano un algoritmo chiamato algoritmo di lon. Che è un modo stupidissimo per verificare se la carta che mettete è valida. Ma non è reale, è tutto finto ragazzi. Se io in questo momento metto dei dati di carta completamente random, ma che seguono l'algoritmo di lon, fidatevi che questo affare funziona. Ok ragazzi, ho messo dei dati di carta di credito completamente random. Questa carta qua che vedete in questo momento, che comunque vi censurerò perché se avete YouTube ogni tanto dice cose. È una carta che non esiste, ma che segue le regole dietro agli algoritmi che verificano se una carta è valida. Quindi se io clicco paga, che succede? Sta elaborando una richiesta. Oh, guarda caso c'è stato un errore durante la gestione del pagamento, ma no, non riuscirò a ottenere il mio iPhone 15 Pro gratis. Un agente del nostro reparto pagamento vi chiamerà a breve. Sì, voglio ottenere una nuova offerta con il 10% di cashback, perché quella precedente purtroppo non è più possibile. E loro mi hanno fregato i dati della carta di credito che fortunatamente era finta. Prima di andare avanti, questa pare essere la pagina successiva. Cioè ragazzi, io... come fa qualcuno a credere ancora nel 2024 a queste robe qui? Cioè c'è l'iPhone 15 che è palesemente un'immagine PNG. Non puoi neanche cambiare il colore, sono dei pulsanti non cliccabili. Mi riapro un attimo il tool di rete nell'altro schermo, così sono un po' più comodo, esatto. E vediamo se riesco a capire qual è l'URL a cui viene fatta la richiesta per inviare i dati di queste carte di credito. Così le intasiamo completamente con dei dati fasulli e gli scammer magari si troveranno un sacco di dati che non sono validi, perché sono finti, inventati, capito YouTube? Sono finti. Ma che si confonderanno con i dati reali delle povere persone che magari in questi scam ci cascano davvero, ragazzi. Manderemo un sacco di dati di carte false, così lo scammer non saprà più che cosa è reale e che cosa no. E speriamo che chiuda questo affare e butti giù tutto quanto. Allora, ho messo un pochino di informazioni a caso, vediamo che succede sul tool di rete se premo procedi. Allora, ha fatto una richiesta, però rimane sulla stessa pagina. Ma cos'è questo schifo? Paga ora. True winner iPhone 6. Transaction declined. Il pagamento di IP va bene o la carnessi in euro non è accettata? No, si sono dimenticati di fare quel contro. Ragazzi, questo cambia tutto. Se la pagina funziona così, ovviamente cambia l'ID ogni volta, significa che lo scammer ad ogni transaction declined va a pagare una piccola percentuale. Eh sì, ragazzi, sì, paga una piccola percentuale, perché per ogni transazione declinata si paga uno o due centesimi. Quindi se io gli mando un migliaio di richieste, il sito gli implode, lo chiude e tutti i dati delle persone sono salvi. Facciamo una buona azione, ragazzi. Apriamo Python. Allora, abbiamo preparato il nostro bel file scam.py. Andiamo subito a leggere l'url a cui viene fatta la richiesta. Andiamo a copiarlo e facciamo import request url uguale. Facciamo incolla. Questo ve lo dovrò censurare, ragazzi. A questo punto io voglio riprovare a vedere l'header. Ok. Form data. C'è una serie di campi che vengono inviati, che sono questi tre. Adesso li copiamo e li emuliamo. Allora, andiamo a capo. Li incolliamo. Questa roba qui va inserita all'interno di una struttura dati. Facciamo così. Andiamo così. Adesso devo mettere gli apicetti. Mannaggia loro. Questi sono ovviamente dei dati fasulli, ragazzi. Non ci interessa. L'importante è che la sua transazione venga declinata. Perché questo fa pagare a chi utilizza l'API per gestire le varie carte di credito una piccola fee. Quindi noi siamo contenti. Lui un po' meno. Così impara a scammare le persone e a rubare i dati della gente. A questo punto andiamo a salvare. E nel dubbio direi di andare a catturare la risposta del server che ci dirà se la nostra richiesta è andata a buon fine. Andiamo a fare una richiesta post all'URL. La richiesta post, ragazzi, è una richiesta che si fa in HTML su internet. Non voglio farvi la lezione. Ve lo spiegherò più avanti. 3000 like e vi spiego che cosa succede. Data uguale data.text. Questo punto print di response. E vediamo un attimo. Salviamo. Vediamo se funziona. A questo punto finestra PowerShell. Python scan.py. Vediamo se va a buon fine la richiesta. Blank fields found. No, vuole tutti i campi del form. Vuole anche questi, ragazzi. Va bene, mettiamo a posto tutti i campi del form. Ok, ragazzi, ho aggiunto nome, cognome, mail, telefono, indirizzo, surname e siti. Come notate c'era una struttura nel form che prevedeva che venisse inviato tutto. Ora riprendiamo la PowerShell e a questo punto riproviamo. Allora, torniamo di qua. Andiamo su python scan.py. True winner iPhone 6. Transaction decline. Il pagamento. Hypercard e bla 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 non è accettato. RFID 847803. Quindi a questo punto funziona. Se io continuo a fare così, ok, lì di va. Stiamo mandando delle richieste e adesso il nostro scammerino perde un centesimo alla volta. Solo che così è troppo lento e sicuramente non funziona come lo abbiamo immaginato. Allora, in particolare, se io qui scrivo while true, questa roba qua viene eseguita all'infinito. Quindi facciamo una richiesta di post all'url python scan.py. Vediamo com'è venuto. Allora, le sta facendo le richieste, ragazzi, ma come notate sono un po' lente. Aggiungiamoci un po' di multitrading. Ci servirà il modulo threading. Thrading. Perfetto. A questo punto facciamo una funzione def. La chiamiamo esegui. Due punti. E ci mettiamo dentro questa roba qua. Poi qui sotto facciamo un bel pool di threads. Threads uguale. Una bella lista di threads. E qui sotto facciamo for i in range. Facciamo 100. Facciamo che il nostro thread uguale threading.threads. Senza la S. Con target uguale esegui, che è la nostra funzione che abbiamo detto qua. Poi facciamo thread.diamon uguale true. E poi facciamo threads.append thread. Non dovrei dare i nomi delle variabili così semplici da confondere, ma è un esperimento stupido. For i in range 100. Facciamo partire il thread iesimo, quindi threads di i.start. E facciamo anche la join. For i in range 100. Threads di i.join. Direi che è pronto, ragazzi. Questa roba qui creerà una marea di thread, che sono delle unità di esecuzione singole, no? Una diversa dall'altra, in parallelo, che faranno tutte quante una marea di richieste al nostro URL dello Scammer, che così smetterà di rubare dati alle persone e salveremo un sacco di gente. Quindi abbiamo fatto una buonissima azione. Vediamo se funziona. Direi che siamo quindi pronti al gran finale. Python.scam.py E questo è il momento migliore per invitarti a iscriverti a questo canale. Le iscrizioni sono completamente gratuite e mi aiutano davvero tantissimo con lo sviluppo e la divulgazione di queste tematiche qui in Italia. La cyber security è un argomento molto importante e delicato. Ed è per questo che ritengo che debba essere insegnata in Italia in maniera professionale, ma anche divertente. A raggiungimento di 3000 mi piace sotto a questo video, vi porterò un altro contenuto di questa tipologia, dove cerchiamo di salvare le persone da degli scammer che si trovano su internet. Ho già molte idee in mente? La serie e il futuro di questo format dipende quindi da te. Direi che siamo pronti? 3, 2, 1, godiamoci le nostre richieste. Guardate i thread che stanno inviando centinaia di richieste all'URL del ladro. In questo modo lui sarà costretto a chiudere il sito e noi abbiamo salvato un sacco di persone. Ovviamente andrò anche a segnalare questo URL in particolare alle autorità, perché non voglio che nessuno venga assolutamente toccato da questo schifo. Sempre attenti quando navigate in rete, il vostro ingegnere vi saluta, vi raccomando con il supporto, per me significa davvero tantissimo, e ci vediamo ad un prossimo video.